La lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi Fratelli, fatevi insieme i miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso in virtù del potere che gli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. Salmo Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero, andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle Tue porte, Gerusalemme. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta, è là che salgono le tribù, le tribù del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore, là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andremo con gioia alla casa del Signore. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù diceva ai discevoli, un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non potrei più amministrare. L'amministratore disse tra sé Che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accoglie in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo Tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose Cento bari di dolio. Gli disse Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta. Poi disse un altro Tu quanto devi? Rispose Cento misure di grano. Gli disse Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta. Il padrone lo dò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo infatti verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Gli disse Ciao Grazie a tutti.